Cato Clinti, centrocampista di questo Vasto Girardi, sempre più protagonista in questo campionato, dopo la vittoria con il Guglionesi in una gara difficile, un altro segnale fondamentale lanciato a questo campionato con una larga vittoria sul Venafro? Sì, sicuramente. Noi abbiamo vinto con Guglionesi 1-0 in casa, poi questa settimana abbiamo preparato bene per questa partita perché era difficilissimo. Purtroppo abbiamo giocato bene, i primi 25-30 minuti abbiamo perso minimo 5 occasioni secondo me. Poi la festa finisce oggi perché domenica aspetta un'altra battaglia. Punto domenica. Sarà questa bella settimana intensa che tu magari hai già vissuto l'anno scorso. A distanza di un anno adesso si torna in quello stadio che rievoca qualche brutto ricordo. Quest'anno si deve alzare questa Coppa. Sì, sicuramente sì. Questa settimana festeggiamo per questa vittoria, però dobbiamo stare concentrati per domenica perché dobbiamo vincere perché siamo in terzo anno consecutivi in finale di Coppa Italia. Poi dobbiamo preparare bene per vincere la Coppa Italia. Abbiamo visto che dopo la Coppa magari si ritorna in campo e dopo due settimane c'è una trasferta con il Treppini. Forse un'altra partita dove c'è da lanciare un altro segnale. Sì, sì, sì. Vabbè, con Treppini dobbiamo aspettare perché è ancora presto. Dobbiamo preparare solo per la battaglia di domenica.